Cerimonia nella Sala Tinozzi del Palazzo del Governo di Pescara, dove questa mattina il prefetto Flavio Ferdani ha consegnato le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferite con decreto dal Presidente della Repubblica, cittadini benemeriti che si sono distinti con impegni e qualità professionali nel proprio ambito lavorativo o particolari fini sociali e umanitari. È una testimonianza che la cittadinanza di Pescara esprime valori importanti, valori che possono creare sicuramente anche un motivo di esempio e di speranza per tutti gli altri cittadini. Commendatore Augusto Ferrara, editore filatelico. Gli ufficiali Luigi Clemente e Marco Lombardo, già dirigente medico della Sala Pescara. Cavalieri, i tre medici simbolo della lotta al Covid, Giustino Parruti, Paolo Fazzi e Ildo Polidoro e le colleghe Graziella Soldato e Maria Grazia Sulli. Credo che sia un apprezzamento doveroso nei loro confronti per tutto quello che hanno fatto per il Covid. Hanno donato i loro saperi a cittadini vittime della pandemia e quindi hanno ridato loro speranza ma soprattutto hanno garantito un diritto costituzionale che è il diritto alla salute. Mi rendo conto che è quello che vorrei forse trasmettere a tutti i giovani che lavorano con me, una possibilità di essere pienamente gratificati e realizzati dalle difficoltà e dagli impegni che la vita ci chiede di affrontare. Perché altrimenti diventa un po' complicato se separiamo la vita a pezzi, a segmenti. Io ho avuto un po' questo dono, quello di essere dentro il tempo del mio impegno con gusto e serenità e di questo sono grato. Delle forze dell'ordine i carabinieri Vincenzo Corallo, Vincenzo Dorazio, Paolo Gissi, il finanziere Giovanni Macchiarolo, Antonio Rispoli della Marina Militare e della Polizia di Stato, Marino Baroncini, Antonello Fratamico e Sara Cortese, medico protagonista nei giorni del Covid e di recente nella salvare il giovane che per due giorni era rimasto sul parapetto di un balcone minacciando il suicidio. Il ragazzo quando mi ha visto addirittura mi ha detto mamma, quando mi ha guardato perché era tutta la notte che ci parlavamo e quindi comunque eravamo entrati in contatto. Si è fatto abbracciare, si è fatto accompagnare poi in pronto soccorso, accettato perché insomma sapeva che erano stati due giorni difficili anche per lui. Infine il bancario in pensione Achille Di Paolo Emilio e il senatore Nazario Pagano.